Allora, eccoci insieme, parlavamo appunto di Europa, ma intanto stavamo chiacchierando tanto per cambiare fuori onda. Diceva giustamente, io ti sostengo che ci vogliono più canali di comunicazione per avere più informazioni possibili di supporto a chi si trova in difficoltà, perché c'è chi più ha una familiarità con uno, anziché con l'altro, i giovani magari nativi digitali sono straordinari per quanto riguarda t'altro, però c'è anche il passaparola. Il passaparola non è ancora stato passato e declassato come desueto, la curiosità abbinata alla voglia di parlarne, di condividere, indubbiamente può portare, ma sai che ho sentito che, e questo ho sentito che, magari ci fa risalire dei piccoli canali che non sarebbero stati così Ma il problema che a volte su web c'è tantissimo, come dice lei, si trovano dei canali straordinari, è che ci sono anche informazioni forvianti e la bisogna saper riconoscere, avere la capacità di riconoscere quelle che sono serie e quelle che non sono serie, attendibili o meno, per cui è vero che a volte se hai una persona di cui hai conoscenza, ti fidi, ti indirizza verso un certo tipo di percorso, è diverso che non il vederlo, magari trovarlo sul web e poi ti scontri con magari un nulla di fatto, questo è un altro problema di fatto, voi comparite fisicamente, siete testimoni di qualcosa che fate, ci spendete la faccia, perché questo succede, quindi è una cosa che, venite da un incontro in regione, in consiglio regionale, insomma non potete millantare cose non vere. Bellissimo incontro. Esatto, per cui dopo parleremo appunto di perché c'è stato questo incontro. Io voglio rilasciarmi al discorso dell'Europa, che lei aveva accennato. in Europa si può creare sistema, c'è qualcosa che viene fatto, è stato fatto? No, cioè stanno facendo dei grossi lavori per praticamente il riconoscimento di tutto quello che è la dignità delle persone con disabilità, quindi anche, soprattutto in ambito lavorativo, perché è un campo proprio disperato, è il lavoro per le persone con disabilità, loro possono lavorare, ma è impossibile farlo. Non tutti però possono lavorare. No, però quelli che possono, anche se hanno, per esempio, una persona, mi viene in mente adesso il caso di quella, di un avvocato che era stato assunto in un ufficio notarile, qualcosa del genere, ma pubblico, non poteva lavorare perché non c'era la pedana e quindi non poteva andare. Ma perché? Fate la pedana, fine. In quale altra situazione dove abbiamo persone normodotate succede questo? In nessuna. E comunque, per quanto riguarda l'Europa, allora, per esempio, hanno dedicato tutto l'ultimo anno proprio alle strategie di cura e appunto siamo stati chiamati noi in causa la caregiver e proprio al solo alcuni paesi sono stati presi come campione e c'eravamo anche noi in Italia. E noi abbiamo dato il nostro contributo nel, come si dice, nel settore del caregiving familiare. In Europa sono tutti riconosciuti, c'è scritto nel libro, noi l'abbiamo documentato e sono riconosciuti, affiancati, sostenuti. Per esempio, l'esempio più alto è, adesso non fa più parte dell'Europa, ma l'Inghilterra. Se tu devi smettere di lavorare per assistere, caso più, come si dice, frequente, tuo padre o tua madre, anziano, eccetera, con malattie degenerative, ti riconoscono gli anni che hai fatto come caregiver ai fini della pensione. Cosa che da noi, assolutamente. Anche lì sono sempre più le donne che rinunciano al proprio lavoro e dopo la pensione diventa un problema. Noi, per esempio, abbiamo fatto una petizione al Parlamento europeo che è stata accolta perché appunto vogliamo che intanto il nostro paese si allinei con le direttive europee, che non sono capestri o non sono che, ma sono proprio la modernità. Perché noi purtroppo come paese siamo molto indietro. Non c'è niente da fare, non lo dico con cattiveria, ma siamo indietro. Cioè dobbiamo essere obiettivi. Mancano tante cose che potrebbero essere invece create e date mettendosi lì a lavorarci sopra. Il terzo settore funziona tantissimo, invece il settore primario dal punto di vista del sociale zoppica. È in progresso. Come? È in progresso, bisogna essere positivi. Esatto, esatto. Quindi c'è sempre possibilità di costruire qualcosa. Ma quindi noi, rilacciandomi al discorso anche del viaggio che lei ha fatto per la riabilitazione, possiamo attingere dall'Europa qualcosa, supporti, aiuti, oppure è necessario un recepimento comunque da parte dell'Italia di una direttiva o una normativa nazionale? Eh, l'Italia deve adeguarsi e deve adottare, cioè per esempio ancora non è applicata la cosiddetta Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che non è una cosa aliena, ma è una legge dello Stato italiano perché lo Stato italiano l'ha ratificata ancora nel 2009. Eh, e quindi? Ok. Tuttora è disattesa, non è applicata, le persone con disabilità non hanno dignità, sono intrappolate in casa per le barriere, che è la cosa più assurda. Cioè noi abbiamo il 66% degli edifici scolastici, che sono più di 42 mila e questo lo so perché è un un report che fa ogni anno cittadinanza attiva. Il 66% degli edifici scolastici ha barriere. Eh sì, sì. Cioè, ragioniamoci sopra. Questo riguarda anche la progettazione urbanistica. Intubiamente. Ci salviamo in parte dichiarando che la città e lo Stato ha una sua storia e quindi non è una città nata sul nuovo ma ereditata come staffetta di passaggio. Però non capisco che non bisogna arenarsi su questo ma motivarsi, motivarsi per raggiungere obiettivi di superamento. La barriera architettonica è barriera architettonica, fisica, la rampa, il dislivello. Ma non è solo quello. Infatti a me viene in mente una cosa che ha detto prima la Presidente, verissima. Devo spostare la carrozzina ed è continuo, sombalzo e rende difficile. Io sono rimasta colpita perché di recente sono stata in un paese, in Marocco, dove hanno rifatto tutta la viabilità, veramente le città sono cambiate completamente. E tu tranquillamente puoi trascinare con estrema tranquillità. La carrozzina è piena di famiglie anche italiane, europee, con bambini, con le carrozzine eccetera. Anziché la tua valigia con le rotelline che scorre su questi percorsi perché hanno pensato di rimettere tutto a posto tenendo conto di questo problema. E stiamo parlando di un paese come Marocco. Per cui da noi invece no perché è pieno di buche, di intoppi, di marciapiedi e anche quando si cerca di rattoppare non lo si fa pensando che ci possa essere chi deve muoversi o deve spingere. Anche il semplice anziano appunto, come fa la persona a portare fuori proprio caro in carrozzina se poi deve fare una fatica pazzesca per portarlo. È vero? L'ostacolo della barriera fisica più aggiungo il carico da 90 del parcheggio selvaggio, ostruisco i dislivelli degli marciapiedi, mi trovo sulle strisce pedonali. Cinque minuti che entro un attimo al bar a prendere il pane perché quattro frecce, cioè c'è un retaggio che si amplifica perché sempre secondo me rimane non vestendo questi panni non so veramente quant'è il disagio. Quindi giustifico la mia negligenza. Finché uno non ce l'ha il problema ma non se ne accorge, non lo vede. Secondo me molto dipende anche da quello. Si cambia il parametro, il punto di vista diventa nettamente differente quando queste cose pesano oggi e domani e avrebbe voglia di rigare tutta la macchina ma non si può fare. L'ho detta troppo libera. Chiedo anche a lei, lei che fa parte appunto di un gruppo di automutuaiuto che poi va di supporto anche all'associazione. Sono tante le persone che soffrono questi problemi. Sì, è veramente alto il numero e io rimango ogni volta veramente colpita quando conosco delle nuove realtà e un po' si assomigliano, cioè sono quelli i problemi. E sì perché c'è sempre un trait d'union, a prescindere dal problema. Sì, al di là della disabilità che si vive, però è quello il problema, il problema dell'assenza di normative che li agevolano, di famiglie che si sentono lasciate sole e spesso sono anche motivo di spaccature di molte famiglie, la disabilità. Quindi io ho conosciuto tante mamme lasciate ad affrontare da sole questo problema perché è vero che la donna è quella che si sacrifica ma è anche vero che spesso è quella che viene lasciata sola in queste realtà perché non sempre si riesce a rimanere uniti di fronte a queste problematiche qua. Sì, sono tanti, sono troppi. Torno a ripetere, i problemi bene o male secondo me sono quelli, sono quelli dell'assenza di normative che li aiutino, di sostegni e anche di, torniamo a ripetere, di conoscenze e quindi di rispetto, il fatto di abbandonare la macchina dove c'è la discesa per far passare la carrozzina è una questione di mancanza di cultura, cioè ho capito è un attimo, è un attimo per quella persona ma non per chi deve attraversare o comunque usufruire di quel passaggio, il versamento pedonale, ide, gli stessi stalli per gli invalidi. Infatti, che poi adesso magari noi parliamo di questo, stiamo parlando di disabilità, per cui magari chi ci ha scusa e dice vabbè se ti capita questa disgrazia, cioè in realtà no perché il caregiver, principalmente come accennava anche lei, il caregiver è di una persona anziana, quindi ormai ineluttabilmente prima o poi ci si troverà a avere a che fare con una persona che prima era autosufficiente e poi diventa non autosufficiente, quindi tutte queste cose dall'accudire a livello di igiene personale, di alimentazione, di tantissimo, anche mentale perché poi ci sono le patologie degenerative come l'Alzheimer, non solo, è un problema, diventa diffusissimo e se le istituzioni non intervengono diventiamo una società a metà veramente, per non parlare di chi è solo tra l'altro, il dopo di noi per le persone, per i bambini disabili. Volevo dedicare anche 5 minuti a presentare questo libro Cargiver, Familiari, l'esercito silenzioso, eccolo qua, che voi avete presentato peraltro in consiglio regionale, no? Che cos'è? È praticamente il primo testo divulgativo sull'argomento, perché di solito i testi usciti in Italia, in italiano, ok, a parte che sono pochissimi, ma sono solo per gli specialisti, cioè sono per altri dottori, sono scritti da dottori per altri dottori, per i terapisti, oppure sono dei manuali che cercano di supplire i corsi di formazione che dovrebbero fare gli ospedali o i centri di riabilitazione per i familiari per dotarli di tutti gli strumenti utili, stiamo parlando, vero, di persone per esempio che utilizzano dispositivi medicali di salvavita, oppure le persone che hanno avuto gli ictus, eccetera, c'è tutto delle cose che tu devi imparare per forza, cioè io ho creato una pagina Facebook dedicata proprio alla campagna, al riconoscimento del cargiverio familiare come lavoratore. mi arrivano donne e che i loro mariti hanno avuto l'ictus, sono dimessi e non gli spiegano neanche come devono fare per la disfagia, la disfagia è quel disturbo per cui non si riesce più a deglutire e ad inghiottire, ok, ed è pericolosissimo l'alimentazione che deve essere tutta frullata, cremosa, eccetera, perché se va, diciamo, in trachea e poi arriva ai polmoni, abbiamo quella che viene definita la polmonite ab ingestis, che è letale, ok? È incredibile che non formino i familiari e gli dicano dovete fare così e cosa, se avete bisogno telefonate, ma soprattutto, tirando fuori il discorso di nuovo della tecnologia, ma perché non si usa la telemedicina in questi casi? Tu hai la possibilità, da casa tua ti colleghi, c'è magari il corso online che tu puoi seguire da remoto, non, diciamo, in linea, nel senso è registrato, tu quando hai bisogno vai e impari e fai il corso. È impossibile, come per esempio mi è capitato di recente, l'associazione che organizza il corso per i familiari dei malati di Alzheimer, non mi puoi obbligare ad andare in un posto fisico, magari la sera, ma stiamo scherzando, se io sono da solo con mio padre e mia madre, come purtroppo succede, come faccio a venire lì? Quindi non ho diritto a formarmi, ma fate le cose online, che abbiamo anche la possibilità dei fondi del PNR per queste cose qua, proprio, per dire prima l'Europa, eccetera. L'Europa ci dà i fondi per fare l'alfabetizzazione digitale, allora sì che il caregiver, anche se magari è completamente devastato dalla sua assistenza, però sa come fare e trovare le informazioni tramite internet. Collette, tra l'altro io sto sfogliando adesso questo libro e mi ha colpito una cosa in particolare di cui non abbiamo avuto modo di parlare, però purtroppo va detta, quindi perché appunto chi soffre non si senta solo. Il problema degli omicidi, suicidi, per problemi del sonno, problemi dell'appetito, per il caregiver, cioè però per chi, ecco, problemi di flessione dell'umore, difficoltà di attenzione e concentrazione, difficoltà a ricordare, irritabilità, ansia, preoccupazione persistente, sintomi di assomatizzazione, facilità ad ammalarsi e poi soprattutto la depressione che può portare a pensieri, suicidi o domicidi. Ed è questo un problema che purtroppo esiste, assolutamente, quindi anche lì ci vorremmo un supporto psicologico, un problema, cioè... Infatti, noi abbiamo fatto, avevamo messo a punto un progetto che abbiamo presentato in Commissione Sociosanitaria nel nostro comune, nella passata amministrazione. Non ce l'hanno neanche ascoltato, eppure il punto primo era lo sportello psicologico per noi caregiver, perché è importantissimo avere uno scambio, perché dobbiamo capire che ci sono situazioni per cui c'è solo il caregiver e la persona che magari neanche parla e non si muove, è paralizzata in un letto e ha bisogno di terapia, eccetera. Tu prova a passare giorno dopo giorno dopo giorno in quella situazione lì e, come si dice, magari vai fuori di fretta oppure ti sei organizzato per cui ti portano la spesa a casa. No, no, ma assolutamente. Ok? E... No. È pesante, assolutamente. Pesante, però io vorrei distinguere. Un conto è il burden, perché quello lì in medicina è definito il burden dei caregiver. Certo. Tu vai in depressione e sviluppi determinate cose psicotiche, eccetera. Certo. E quello è un... Invece gli omicidi e i suicidi, nella maggior parte, sono di quei caregiver che, arrivati alla fine della vita, per esempio, molti sono genitori, ma succede anche con coniugi anziani. Sì, sì, anziani, assolutamente sì. Io se muoio, se a me succede qualcosa, che fine fa lui, lei? E allora cosa fai? Sapendo il deserto dei tartari che c'è, scelgo io per tutti e andiamo via assieme. E tanti di questi fatti tragici sono purtroppo, come si dice, malinterpretati, perché sui giornali tu leggi tragedia della solitudine oppure morte bianca. No. Voi dovete, anche lì, manca l'informazione, e noi come associazione l'abbiamo sempre denunciata sta cosa. Bisogna finalmente prendere coscienza di questa cosa qua. E, appunto, se si interviene con una legge fatta bene, queste cose qua le eliminiamo. Si ovviano, assolutamente. Allora, ci sarebbe tanto... beh, magari ci ritroveremo perché ci sarebbe tanto ancora da dire, comunque è importante anche dare l'informazione che ci sono associazioni e persone che si dedicano a questo, possono dare una mano che non si è soli. Quindi io ringrazio Alessandra Corradi, presidente Genitori Tosti in tutti i posti, Elisa Renofio, architetto, associazione sempre dell'associazione, grazie anche a lei, Amelia Adessi, genitore parte dell'associazione e anche di un gruppo di mutuo aiuto e supporto. Ringrazio voi di averci seguito. La puntata la potete poi rivedere naturalmente in replica nel nostro sito. Buon proseguimento, buona serata, a tutti voi buon lavoro naturalmente. Grazie. Grazie. Grazie.